amiche d'amici buonasera e ben ritrovati sport life una nuova puntata nuovo appuntamento in diretta facebook on demand su rieti live tv entriamo nei temi caldi in questa puntata in particolare del calcio del rieti calcio ma anche del basket perché parleremo del campionato di serie di umbra e lo faremo chiaramente con un ospite così come parleremo con un ospite del rieti calcio allora subito il giro di presentazione di chi questa sera ci è venuto a trovare in particolare buonasera ad alessandro mezzetti buonasera buonasera a te non do cariche perché sei di missionario un cittadino un cittadino cittadino ne parleremo tra poco e per il basket salutiamo e ringraziamo per aver accettato il nostro invito il tecnico del basket contigliano lorenzo franceschini buonasera lorenzo buonasera e grazie dell'invito ben trovato ben trovato grazie non c'è chiaramente una gerarchia di importanza di sport ma più che altro a fare la gerarchia questa sera delle notizie sono proprio le cose che ci arrivano dalla città le ultimissime come avete letto sul sito riccardo curci è tornato in possesso del football club rieti lo ha fatto davanti al notaio gian felice in viale matteucci e davanti a coloro che avevano acquistato il 15 ottobre vale a dire la italdiesel con di fatto è stato stracciato dunque l'accordo che era stato preso che era stato sottoscritto poco più di un mese fa non ci sono state dichiarazioni su quanto poi questo accordo a livello monetario come sia stato stracciato perché poi se ci sia stato un diciamo un nuovo passaggio diciamo economico la cifra dell'operazione almeno a quanto risulta a noi è intorno ai 70 80 mila euro ma questo chiaramente non trova conferma nei diretti interessati l'avvocato schilirò che ha parlato per conto di riccardo curci oggi pomeriggio non ha dato conferme in questo senso dunque il rieti è tornato a riccardo curci dopo la domenica più dura la domenica dell'imbarazzo dell'imbarazzo e della farsa evitata doveva giocare la berretti alla fine per la mancata deroga lorenzo pezzotti non si è giocato il rieti ha subito questo pomeriggio il 3 a 0 a tavolino in favore della regina il meno uno in classifica e basta che direi che è più che sufficiente perché ci aspettavamo anche una multa e invece non è non è stato così non ci sono state squalifiche rieti però non può permettersi passi falsi né a livello societario né a livello sportivo e allora chiedendo pazienza a lorenzo franceschini ma chiedo immediatamente un commento ad alessandro mezzetti che in settimana scorsa la settimana scorsa si è dimesso dal ruolo di slow mi è innamorato del rieti calcio quindi credo anche col cuore a pezzi si è dimesso da quel ruolo è una notizia vecchia adesso chiedo ad alessandro mezzetti a se tornerà b come ha visto questa recompra da parte di curcino ma io credo che la recompra sia stato sia una buona notizia per come si erano messe le cose secondo me il fatto di averla riportata in mani sicure o quantomeno in mani casalinghe consente a tutti quanti noi sportivi appassionati di proiettivamente hai detto sicure perché insomma anche le note di ghirelli e di ghirelli e gravina avevano lasciato intendere che non piaceva ciò che si stava stava mettendo radici qui a rieti dopo sicure ho detto casalinghe quasi per correggermi non perché non siano sicure ma è evidente insomma che qualcosa queste quantomeno tengono ferma una situazione e quantomeno ci dimostrano di essere garantisti anche nei confronti della federazione federazione che a mio modo di vedere non ha speso parole bellissime né per il rie di calcio né per tutta la vicenda ma neanche per il rie di calcio è stata frettolosa sono state frettolose lega a mio modo di vedere c'è stata una vittoria di pirro e hanno fatto la gara a chi prima rivendicava questa grande presenza di regole che finalmente sono state rispettate diciamo che più che altro secondo me si è trovato un cavillo per non giocare una partita per non giocare la partita della vergogna detto questo è chiaro che se ci fosse effettivamente un funzionamento delle regole le regole avrebbero dovuto funzionare quando c'è stato l'atto di acquisto di questa società ma soprattutto per i 30 giorni in cui questa società ha agito comunque indisturbata attraverso suoi interlocutori e personaggi nessuno ha fiatato ogni tanto si sentiva qualche rappresentante della lega che diceva attenzione ci sono le regole vanno rispettate non abbiamo documentazione ma è evidente insomma che tutto questo scandalo che si è consumato domenica poi in realtà non è nient'altro che il risultato di un mese in cui sì per carità ci avranno anche provato ma insomma è chiaro che l'inadeguatezza era tanta mentre parliamo passano in sovraimpressione le foto di Gianluca Annicelli della non partita di fatto perché poi si è trasformato in un allenamento visto che Rieti non ha giocato in due parole Riccardo Curci ha qualcuno dietro che lo può sostenere adesso perché poi riprenderla significa anche prendersi onori magari da salvatore per qualcuno può apparire ma anche oneri io mi auguro di sì nel senso che se Riccardo ha qualcuno dietro per poter costruire un progetto sportivo serio tutto quello che si è fatto ha una logica se Riccardo non ha nessuno e lo ha dovuto fare solamente per salvare i rieti e diciamolo anche la faccia no nel senso che comunque l'operazione dall'inizio dal diesel dal diesel ma poi la faccia di Riccardo Curci in città fino alla fine insomma è chiaro che l'operazione portava un nome un cognome anche per averla partorita e conclusa e quindi è chiaro che secondo me se c'è qualcuno speriamo perché altrimenti la vedo un'altra stagione sofferente nel senso un'altra seconda parte della stagione ma in realtà siamo ancora nella prima e comunque quello che secondo me vale la pena di dire è vero che sono stati 30 giorni non sereni ma dal primo luglio al 15 di ottobre è stata una cosa continua è vero è vero è vero ragione mezzetti chiudiamo questo piccolo capitolo ma non scappa mezzetti dalla domanda se tornerà o meno almeno nel ruolo di slot chi lo sa qualcos'altro magari io possono proporre parliamo di basket basket io non voglio rubare il lavoro a roberto ventuzzi che lunedì il lunedì magistralmente conduce basket life però insomma voglio dare spazio al basket minore e non e non è un insulto ma anzi c'è una pagina no le minors e mai le minors della pallacanestro anche anche italiana c'è una c'è una minors molto molto interessante una situazione societaria davvero equilibrata che ha riportato grande entusiasmo in paese sto parlando del basket contigliano che in realtà dato i natali poi alla npc ma almeno sì così diciamo sempre e che è arrivato di fatto a un ottimo punto del campionato abbiamo giocato l'ottava se non sbaglio giornata vittoria contro la wisp palazzetto perugia in casa al palagrezza che non si chiama più palagrezza ma si chiama pala ma la ernesto martelli e quindi per in onore di uno storico dirigente e politico contiglianese renzo franceschini è il coach posso dire insieme a gianni brunelli sì assolutamente sì che situazione c'è che momento è che stagione è per questo contigliano ma è una stagione un po di transizione sostanzialmente perché questi campionati minori comunque costano ci sono delle regole che impongono un notevole sborso economico anche per partecipare a categorie minori il contigliano ha messo in piedi questo nuovo progetto costituito da comunque da vecchi appassionati e quindi sta facendo un notevole sforzo per poter riportare qualcosa di positivo a contigliano soprattutto in questo momento in cui il calcio un po latita e quindi diciamo come punto di riferimento sportivo è diventato adesso il basket mi stai ferendo lorenzo perché ho militato nel contigliano quindi mi stai ferendo però questo questo è un peccato lo dico io unica società che mi ha terserato per il calcio a undici anche coraggiosi mi stai ferendo in questo momento quotidiano che l'anno scorso ha giocato in un campionato di livello inferiore all'ambito la promozione diciamo d'ufficio praticamente arrivando alle final four che sono andate con la promozione ma è arrivata una promozione appunto a tavolino d'ufficio mettiamola così insomma una chiamata dalla serie di dalla serie di umbra c'è una solida base dell'anno scorso ma c'è ci sono innesti anche interessanti importanti beh diciamo c'è un un gruppo di giocatori di esperienza che si è unito al gruppo dei giovani più interessanti dello scorso campionato contigliano ha perso anche un paio di giocatori di voli vera che comunque sia in questi campionati sport la differenza a volte anche in negativo però diciamo fanno sempre la differenza per una battuta ovviamente salutiamo l'ho era antonio in campo la presenza in campo e lo ritroveremo a breve come avversario insieme a fabbio petrucci e militante nella squadra di spoleto quindi ci incontreremo presto chiaramente lorenzo franceschini è un volto dico storico del dello sport cittadino e quindi di situazioni ne ha vissute tante mi pare di notare che a contigliano c'è lo dicevo anche prima un equilibrio nella nella società ci sono tante voci e a dispetto di quando si dice tanti galli a cantare non si fa mai giorno in questo caso sembra che non è proprio così no diciamo come ti dicevo prima c'è molto equilibrio tra i soci ci sono ruoli ben definiti e diciamo c'è molta collaborazione l'innesto di qualche altra figura sarebbe sempre interessante gli sponsor ci sono il campionato va avanti i ragazzi mi sembrano soddisfatti quindi diciamo per adesso tutto fila liscio il campionato va bene abbiamo avuto un calendario molto favorevole per una squadra che diciamo viene ricreata da zero con praticamente otto giocatori nuovi su 14 ecco la classifica la vedono in sovra impressione i nostri nostri telespettatori in arancione non c'è solo il contigliano ovviamente questo in questa di regionale umbra ma anche babadook e la npc fara in sabina c'è un una coppia diciamo in in cima alla classifica con assisi e cannara a 16 punti poi l'atomica basket spoleto che citavamo prima 14 ellera contigliano e gubbio 12 basket terni 10 npc fara in sabina e babadook che tra l'altro sarà la prossima avversaria di contigliano a sei e poi il il resto c'è una curiosità il derby in casa di babadook si gioca contigliano purtroppo viviamo un momento tragicomico per l'impiantistica sportiva babadook che era di casa all'itis lo diciamo che non è a disposizione addirittura addirittura al palagordoni ecco quindi figuriamoci mezzetti il palagordoni il vecchio palagordoni lui era uno di quelli che quando non funzionava la caldaglia al palagordoni in altri momenti mi scriveva su Facebook mi telefonava mi insultava e poi mi scriveva su Facebook bellissimo bellissimo vabbè perché comunque scritta manent e poi dopo il nostro rapporto è sempre stato in questo simpatico perché ci insultavamo però poi alla fine c'è sempre il rispetto perché comunque sia bisogna rispettare chi ha dei ruoli istituzionali che non è che sta lì per fare i danni ma sta per per fare per pararli i danni per anni sono stati veramente parati i danni siamo arrivati in un punto in cui l'impiantistica sportiva Rieti sta quasi a zero sì ci sono problemi evidenti in due stagioni di trasmissione abbiamo sempre sottolineato lo facciamo con con Rieti Life io in passato mi sono anche scontrato con mezzetti non lo devo non lo devo nascondere mi scontrerò con Donati insomma perché l'impiantistica in una città che peraltro nel 2021 sarà città europea dello sport insieme ad altre per carità però insomma qualcosa noi abbiamo favorito la dialettica sportiva sì sì questo è questo c'è lo scontro in realtà poi ha favorito la dialettica diversi anni fa un gruppo di insegnanti insegnanti di educazione fisica e insieme al coni fecero una ricerca 17 mila uscì un libro e si hanno 17 mila ragazzi parlano di sport dove a Rieti c'erano 20 metri quadrati di attrezzature sportive a disposizione per ragazzo e forse parlo degli anni ottanta e quindi adesso forse adesso forse i metri quadrati diciamo che sono rimaste le stesse però la fruibilità penso che sia notevolmente diminuita prometto che faremo una trasmissione solo sull'impiantistica perché perché lo lo merita mentre Contigliano ad esempio tra poco avrà addirittura due palazzetti quindi uno chiaramente per iniziativa privata in particolare di Cattani e della NPC e uno invece che è la palestra poi di fatto il palamalfatti scusatemi della scuola malfatti che sarà appunto che è a disposizione delle società il territorio non solo di Contigliano ma a questo punto in generale mentre aspettiamo un ospite in collegamento telefonico si sta adoperando il buon Luciano io torno a bomba da Mezzetti torna Alessandro Mezzetti nel ruolo di slow che cosa è necessario per rivederlo lì perché poi io ho l'impressione e lo dico anche a chi segue Rieti che c'è una sorta di restaurazione avete sentito tante dimissioni probabilmente adesso Curci correrà ai ripari cercando di rimettere insieme i cocci e quindi Mezzetti è uno di questi cocci io voglio capire qual è il progetto di Riccardo da qui alle prossime settimane perché se questo se c'è stato un incidente di percorso è perché qualcosa non ha funzionato altrimenti non ci sarebbe stato nessun incidente di percorso io da innamorato appassionato di questioni di questioni tecniche legate al mondo della sicurezza dell'organizzazione di un evento sportivo non è la partita cioè qui non è né la partita di pallone e né il pallone questa è un evento sportivo di calcio di un campionato di serie c che è una liga professionistica io non ne faccio non ne ho mai fatto con nessuno una questione economica ci mancherebbe altro ne faccio una questione di serietà a disposizione il mio volto che comunque un minimo di credibilità in città ancora ce l'ha è evidente che voglio mettere a disposizione di un progetto sportivo per cui ne vale la vera allora lo dimenti lo dico io curci qualche danno l'ha fatto da qui in po anzi anche prima perché poi la vendita ai greci è stata un po similare a questa situazione forse meno drammatica di quanto è accaduto ultimamente adesso curci però deve prendere l'impegno di rendere chiare le cose soprattutto a chi sta in città ci mette la faccia ci mette l'impegno e ci mette il lavoro perché vedere giocatori senza stipendio fornitori arrabbiati i dipendenti anche di missionari senza stipendio non va bene questo va immediatamente sistemato al di là di poi una futura vendita un affiancamento una sponsorizzazione Ezio Capuano domenica rieti gioca eh buonasera 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 a me fa piacere mi spiace un po' tanto di come ti ascolta con grande onestà mi fa piacere intanto perché a chi ci sia il calcio perché sono stato bene sono stato molto bene ho fatto i sacrifici e soprattutto per gli agazzi perché a me capitata a modena for cosa significa e quindi come si era capito noi ultimamente c'è un 990 di più benissimo quindi sono contento però onestamente non è giusto passare il campionato con gli stati di posto di 5 con la con la schiettezza che mi ha accompagnato sempre nella luce altrimenti sarei molto molto ipotica perché questa partita di fatto certo perché tanto ci ha fatto un grande eccesso non lo capisco perché è rarumato che aveva quella situazione ci ha regalato lei quella situazione ci ha regalato lei la sua presenza il suo arrivo un bel ricordo non è giusto si poteva gestire meglio la situazione di domenica visto e considerato che curcidere un atto d'amore limitato verso la sua creatura l'avrebbe ripresa punto dico quello che penso con estrema schiettezza che come insomma come come sappiamo lei sa parlare e agire le chiedo se al via oce di toglierlo perché la sentiamo leggermente rimbombante e nel frattempo le chiedo che situazione c'è ad Avellino ma Avellino non è bella la situazione sicuramente sapete benissimo i problemi che ha avuto De Cesare con la Citigas quindi non so qui a rimembrarvi mi auguro e sono convinto che al più presto si risolva stamattina c'era un'udienza è stata rimandata al 3 dicembre quindi però io penso soltanto al campo non ho mai trovato Alibi io volevo Avellino volevo una grandissima piazza la bicicletta l'ho voluto e devo pedalare sapevo a cosa andarlo incontro però siamo una squadra molto giovane onestamente dal mio approccio l'avevamo fatto benissimo poi voglio dire ultimamente le prestazioni ci sono non troviamo Alibi poche volte capita che una squadra sullo 0 a 0 per quattro partite con deve dire prende traversa però niente va bene lo stesso domenica per noi è una partita molto difficile perché conosciamo il valore dei rieti io l'ho vista giocare in maniera splendida a contro la Cavesi a Castellammare di Stabia il risultato non è debitiero di Rippo Valencia e noi domenica la partita della vita cioè voglio dire noi siamo ad Avellino cioè non vingere domenica purtroppo anche perché è uno scontro diretto al momento certo certo è uno scontro diretto e quindi ma è uno scontro diretto ma non si purtroppo dobbiamo fare il risultato a tutti i costi ma a prescindere se veniva e si vieti o viene qualche altra squadra chiunque questa sarebbe venuta noi domenica dobbiamo ritornare alla vittoria con secondo me la squadra meno che avrei voluto incontrare in questo momento perché una squadra che era finita e sanguinava adesso è uscita dal sala di animazione quindi è nella corsia e quindi non è facile giocare con una squadra del pieno in bocca al lupo Ezio Capuano è stato un piacere risentirla ci sentiamo domenica un abbraccio circolare a tutta Rieti grazie grazie a Ezio Capuano che ha lasciato segno indelebile con la salvezza conquistata nella seconda metà della scorsa stagione insomma Mezzetti ne è testimone a proposito di allenatori torno da Lorenzo Franceschi invece perché proprio in vista del derby di basket che impressioni ci sono perché poi si gioca a casa ma fuori casa è una situazione un po' diversa ci si conosce tutti perché poi insomma i ragazzi sono tutti amici diciamo che il derby emotivamente influisce sempre questo fine settimana andremo per un appuntamento importante a giocare contro Terni sabato prossimo Acquasparta e poi infrasettimanale avremo appunto il primo derby i ragazzi i nostri sono di esperienza sicuramente più rispetto a Babadoc anche se ha qualche ragazzo che ha militato in categorie superiori Petroni, Stefano Martellucci, Festuccia, Cappellanti sono giocatori navigati di derby ne hanno disputati un bel numero a proposito di derby e di minors che dicevamo prima com'è giocare in un palazzetto come a Contigliano che tutti i venerdì è praticamente sempre pieno? beh non è facile non è facile sempre sotto l'aspetto emotivo i ragazzi ancora accusano soprattutto i più giovani ti ripeto i ragazzi più esperti la sentono però poi quando salta la palla sparisce tutto a Mezzetti invece chiedo un'altra cosa prima di tornare al calcio vi conoscete per i passati chiaramente da amministratore abbiamo una fortitudo di vecchia data in comune ecco è là che io volevo andare a parare quando torna il volley di livello e chi lo fa tornare? ma il volley di livello ci vorrà un po' per tornare nel senso che ci sono buoni buoni campionati di settore giovanile in cui stanno crescendo in tutte le società locali buoni elementi soprattutto ragazze soprattutto ragazze negli ultimi tempi c'è anche un incremento del movimento maschile questo grazie anche alla nazionale italiana che negli ultimi anni ha fatto molto parlare di sé però è chiaro che ci vorrà del tempo ma ci vorrà perché comunque è una città in cui tenere una squadra in serie C di calcio una squadra in serie C di basket insomma si fa fatica il calcio a 5 in serie A si fa tanta fatica a proposito di fatica io non so dove andare a parare nel senso io non credo che per Curci sia cambiato qualcosa in 33 giorni non ci credo ha delle promesse si prenderà tutto sulle spalle perché poi un mese fa c'è stata la vendita e credevamo che fosse una situazione risolta poi abbiamo capito che non avrebbe ingranato moltissimo tra un mese c'è un'altra scadenza e lì non è che siamo già al cartellino giallo un altro cartellino giallo si va sotto la doccia questo vale un po' su tutto nel senso che siamo tutti siamo tutti ammoniti con diffida nel senso che se si sbaglia una partita l'organizzazione non si gioca se giochi a porte chiuse alla seconda e vai fuori se vai questo della questione economica è una questione importante delicata io insomma Riccardo lo conosco da da molti anni la sua onestà intellettuale è vera cioè è una persona comunque che ha sempre mantenuto gli impegni quindi è evidente che se si è sentito di fare questo passo al di là del come dire mettere una toppa ad un buco che stava diventando tanto grande è evidente che abbia anche un piano B lo spero per lui lo spero per per l'aria di calcio 11 giorni senza toccare il pallone che sarà una settimana abbastanza dura tecnicamente e sportivamente parlando e soprattutto in vista della partita di cui parlavamo con Capua beh 11 giorni senza toccare il pallone non sono pochissimi insomma anche perché da domenica in poi avrai tutte le partite vere premesso che poi ricordiamo domani la squadra torna ad allenarsi almeno assicura così anche se bonifici non sono partiti oggi per gli stipendi perché la squadra era sciopero per quello è chiaro che conoscendo Curci vedendo Curci avendo avuto rassicurazione di Curci saprà aspettare i tempi tecnici per la partenza dei bonifici però insomma sono anche professionisti e quindi è evidente che da domani se decidono di rimettersi a lavorare si rimetteranno a lavorare in maniera seria e quindi è chiaro in quanti non tornano Alessandro ma questo non lo so nel senso che io sono convinto che spero che torneranno tutti è chiaro che e devo dire tra l'altro al di là della questione di domenica secondo me c'è stata una grande prova di maturità anche dell'allenatore io credo che che ha ricevuto piena fiducia mi pare di capire anche dal ritornato Curci ha piena fiducia e secondo me ha fatto benissimo Riccardo perché comunque abbiamo in tutto tutto questo bailam abbiamo avuto tutti una grande sorpresa senza nulla togliere a Eziolino e a tutto il resto però insomma devo dire che Caneo è davvero un allenatore molto bravo preparato e soprattutto una persona paziente molto paziente l'ho sentito prima ha dimostrato grande pazienza beh insomma anche grande maturità è chiaro che sono momenti molto difficili però devo veramente fargli complimenti perché sia da un punto di vista sportivo che da un punto di vista umano è davvero una bella persona torniamo al basket chiedo a Lorenzo Franceschini di tutti questi anni di esperienza di sport e in particolare di pallacanestro com'è cambiato il movimento soprattutto in città nel territorio la butto la io secondo me anche a livello di numeri c'è una crescita forse in virtù dei risultati positivi e della categoria che trascina una squadra come la NPC sicuramente i risultati della serie A sono questi indubbiamente i bambini a scuola ma anche nel quotidiano vivono la fase mediatica della NPC non c'è niente di strano come lo è stato ai fasti della Sebastiani né più né meno c'è da dire che quello che è riuscito a fare a livello sociale il basket probabilmente non è riuscito neanche lo stesso calcio in città probabilmente no e quindi comunque sia il richiamo del basket a livello giovanile sicuramente è trainante anche a livello sociale quindi la maggior parte dei ragazzini ovviamente sceglie il basket sicuramente se il calcio fosse arrivato non dico in serie A però in serie B o una C consolidata o una C consolidata comunque sarebbe bello avere da quello che mi risulta dai numeri che hanno comunque c'è un ci sono bei settori giovanili che fanno calcio l'hanno fatto da sempre anche quando ero ragazzino io insomma c'erano tante squadre tante società satelliti del Rieti che facevano bene insomma tutte le categorie come si gestisce una squadra che ha una bella ambizione come Contigliano proprio in virtù anche di un bel legame tra tutte le componenti sia societarie che poi di campo come si gestisce la settimana di gente che formalmente lavora però comunque cominciare a fare una serie D che è fondamentalmente per Contigliano interregionale mettiamola così diciamo l'ultima categoria dilettantistica è l'ultima categoria dilettantistica però insomma le trasferte arrivare a Perugia un venerdì sera un sabato sera non è proprio ma guarda ti posso dire Forse Perugia è il melano io ho fatto campionati del Lazio tipo anche le giovanili a livello nazionale ti posso dire che andare a giocare in Umbrica è un piacere perché comunque sia tu prendi la macchina fai al massimo la tua ore e mezza di viaggio e arrivi al palazzetto è anche un po' la filosofia del club io ne ho parlato spesso con Simonetti con D'Angeli con lo stesso Gianni Brunelli qui si gioca magari anche con città Perugia e via discorrendo a Roma si finisce sempre nel quartiere che per carità è quasi come una città a livello numerico è sempre un quartiere quindi a livello di immagine di marketing tra virgolette stiamo sempre parlando di un quartiere di una città e non di una città ti posso raccontare un aneddoto veramente di tanti e tanti anni fa per arrivare al palazzetto una volta dovemmo scendere tutta la squadra alzare di peso una macchina parcheggiata in doppia fila per far passare il bus della nostra squadra questa è una realtà c'è parliamo diciamo qui sono passeggiate sono passeggiate poi ti fai la tua partita puoi andare a cena fuori che diciamo è l'obiettivo anche della società di fare squadra nel vero senso della parola è la vera missione sociale esatto ultimi 3-4 minuti insieme ad Alessandro Mezzetti chiedo le prossime come immagini le prossime 48 ore del Rie come le vorrei o come le immagino entrambe ma come le immagino allora quello che accadrà in realtà è come dicevi prima tu sicuramente il pagamento degli monumenti dei calciatori io so tra domani e giovedì chiaramente ci sono i tempi tecnici 135 mila euro la restaurazione di cui tu parlavi come la immagino è il pagamento degli stipendi la ristrutturazione anziché la restaurazione seria e chiara con le cose sul tavolo seria e chiara con le cose sul tavolo ma qual è allora se parliamo di serie C qual è il senso comunque di avere una società di calcio in una città come questa termine società già dice che bisogna essere in più di uno per poter gestire qualcosa che ha a che fare sia con l'attività diciamo produttiva che come questa che anche questa è un'attività produttiva ora io non penso che un uomo solo al comando secondo me nella storia non ha mai fatto benissimo mai e quindi anche in queste realtà credo che consigliarsi aprirsi confrontarsi guardare a quelle che sono gli esempi migliori che funzionano altrove forse ci fa anche pensare a capire meglio che qualche cosa lo abbiamo sbagliato e non bisogna più sbagliare e per non sbagliare più bisogna mettere in campo le azioni che fanno della ria di calcio una società virtuosa una società forte una società riconoscibile è vero che c'è un debito di oltre 300 mila euro tra stipendi ad ora e fornitori questo lo dicono i bilanci lo dicono io dico un'altra cosa il Matera l'anno scorso è fallito con 4 milioni e mezzo di euro non è questa la situazione il ria di calcio oggi se facesse un'operazione di ristrutturazione del di tutto quello che è l'ambiente camminerebbe con le proprie gambe tranquillamente con le proprie gambe con un imprenditore serio e capace come Riccardo insieme a tanti altri se vogliono affacciarsi prendendo togliendo uno specchietto il 5 6 il 7% mettendo a disposizione della città perché secondo me anche il confrontarsi con quelle che sono un minimo una piccolissima parte di azionariato popolare piccola perché tanto il bacino d'utenza è quello può comunque aprirti a invece c'è l'abbonamento 500 euro ma c'è uno strumento si chiama Fidelity Card l'abbonamento è una cosa e è giusto pagarlo la Fidelity Card è ancora un'altra che ti permette di incamerare qualche altra cosa ma che permette al tifoso che fanno tanti tifosi e comprano l'abbonamento VIP e poi magari comprano quello trovando facendolo solo da solo questo sistema va bene se a Mezzetti ho chiesto le prossime 48 ore Lorenzo Franceschini vista la tranquillità del basket contigliano questo ci fa molto molto piacere chiedo invece diciamo il resto della stagione cosa immagina per questa squadra e per la società beh diciamo affrontiamo l'ultima parte del campionato che è molto difficile incontriamo tutte le prime e farà Sabina ai primi di gennaio quindi siamo arrivati alla famosa cartina torna sole del campionato nelle prossime cinque gare diciamo avremo veramente i dati per poter capire che tipo di squadra abbiamo fatto e se ci sono i presupposti per affrontare magari i playoff playoff quindi vabbè l'obiettivo diciamo per essere tra le prime otto per esserci diciamo per potercela giocare con tutti ma c'è un sogno c'è un sogno C? ma per quest'anno il sogno è sogno diciamo l'obiettivo era di far bene e di costruire le basi per il futuro quindi affrontiamo giorno dopo giorno sia gli allenamenti che le gare senza avere l'obiettivo la paura di sbagliare certo ovviamente con il materiale che ci abbiamo a disposizione quando perdi un pochino soffri ti criticano come sempre ma non è quello insomma diciamo l'obiettivo della società è costruire per il futuro quindi anche i giocatori che forse non saranno con noi per la prossima stagione è stato chiesto di contribuire per consolidare il basket a Contichiano quindi lasciare un segno lasciare un segno bene questo un po' quello che vi ha voluto trasmettere oggi lasciare Sport Life è chiaro che poi destreggiarsi tra la cronaca veramente spicciola sul sul rieti veramente abbiamo avuto aggiornamenti fino a poco fa avete visto insomma il sito per arrivare a una situazione invece strutturata più tranquilla e che chiaramente guarda un po' più lontano delle 48 ore non è facile speriamo di aver raggiunto raggiunto l'obiettivo ringrazio voi per averci seguito ringrazio Luciano Mancini in regia e ringrazio Alessandro Mezzetti grazie a te vediamo vediamo la pausa è sul ruolo vediamo vediamo così come vediamo per i rieti ringrazio Lorenzo Franceschini coach del basket quotidiano in bocca al luogo grazie ai ragazzi alla società ci vediamo al Palamartelli vi aspettiamo al Palamartelli e come ci vediamo noi con i nostri telespettatori la prossima settimana continuate a seguire rietilife.com i nostri social le puntate sono anche su Spotify e chiaramente in audio in video le ritrovate on demand su rietilife su rietilife tv grazie per averci seguito domani il salotto di Simona giovedì la rana nel pozzo venerdì torna tu che ne pensi rietilife tv non si ferma mai con me il sito buona serata ciao a tutti ciao a tutti Grazie.